ieri sera dopo tanto tempo finalmente mi sono visto un film che avevo messo lì mi ero riproposto di rivederlo ma non avevo mai avuto il tempo ieri sera mi sono preso del tempo e mi sono visto questo film qua questo film si intitola yes man yes man con il grande gene carrie spettacoloso attore fantastico film bello molto molto bello il quale film mi ha lasciato un pensiero un pensiero che voglio esprimere qui a un concetto che voglio dirvi adesso in pratica ovvero sia bisogna cercare tutti i giorni in modo cosciente tutti i giorni in modo cosciente di lanciare un segnale positivo perché molto semplice perché chi lancia un'azione positiva sarà ripagato da tanta 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 energia ve lo assicuro